Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video, oggi video in cui vi mostro quattro prodotti esfolianti che potete trovare su YesStyle che sono veramente delle chicche. Mi piace anche questa selezione perché sono quattro prodotti per diverse tipologie di pelle quindi sono sicura che beccherò ognuna di voi. Ovviamente vi ricordo come sempre il mio codice premio sempre attivo su YesStyle che è Emilis30. Partiamo con il primo prodotto che è veramente una bombetta del brand Primera, spero di averlo pronunciato bene, l'Organience Brr Soft Peeling to Foam Cleanser. Ovviamente di tutti i prodotti troverete il link diretto qui sotto al sito YesStyle così non farete troppa fatica a trovarli. Questo prodotto mi piace tantissimo perché è super delicato, all'interno abbiamo come acidi esfolianti IPH, quindi sono ottimali anche per le pelli più sensibili, in più è un detergente, quindi va risciacquato e non resta sul viso, quindi top perché appunto ripeto ha una pelle sensibile, per chi vuole esfoliare e ha paura di farlo perché magari ha una pelle troppo reattiva, veramente mi piace moltissimo e lo consiglio anche a tutte le altre tipologie di pelle come detergente da usare qualche volta durante la settimana. A me è piaciuto tantissimo, ha una texture molto cremosa, molto delicata sul viso e veramente vi fa questa micro piccola esfoliazione che d'estate comunque secondo me è anche ottimale farla in questo modo. Passiamo forse al mio prodotto preferito di questa selezione ovvero il detergente anche un po' leggermente peeling, vi faccio vedere la texture che ha, ha questa texture qui un po' appunto granulosa ma veramente pochissimo e una volta diciamo mescolato va praticamente tutto via ed è tipo una specie se vogliamo dire quasi di mousse. Io lo lavoro un attimo sulle mani, guardate qua la schiumina che viene fuori e una volta sul viso non sentite neanche particolarmente questi granelli. Questo prodotto io lo consiglierei di utilizzare volendo anche tutti i giorni per chi magari in questo periodo vuole stoppare con l'esfoliazione perché questo fa appunto un'esfoliazione molto delicata avendo il pH all'interno ed essendo anche un detergente. Quindi secondo me se volete fare una micro esfoliazione giornaliera delicata questo è perfetto perché non irrita per niente, io lo sto testando appunto anche tutti i giorni e non mi dà assolutamente problemi. Ovviamente la sera non lo utilizzo per il semplice fatto che di sera mi strucco il più delle volte, se sono struccata ancora ancora ma se mi devo struccare non è proprio il prodotto adatto perché comunque dei micro 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 grandelini li ha che però non si sentono quasi per niente sul viso ma comunque non lo trovo proprio indicato per struccare quindi preferisco magari usarlo la mattina ma mi piace veramente un casino. Cioè guardate qua come si lavora bene e sentite la pelle proprio ben pulita una volta che avete utilizzato il prodotto. Mi raccomando sciacquatelo bene e state bene a lavorarlo perché prima ne basta poco infatti io mi sa che l'ho messo anche troppo secondo rischiate di lasciare dei residui sul viso quindi mi raccomando lavoratelo bene, sciacquatelo bene prima di appunto concludere la detersione. Poi passiamo al tonico di Franklin AHA 8,05 Clearing Spoliant Toner. Allora questo tonico lo consiglio soprattutto a chi ha una pelle normale secca o volendo anche chi ha una pelle mista grassa che magari vuole lavorare ogni tanto su magari le macchie sulla luminosità perché come sapete gli AHA sono top per chi ha una pelle più secca normale ma per esempio anche io che ho una pelle mista grassa mi trovo molto bene ad utilizzarli proprio per illuminare e per lavorare sulle macchie. Abbiamo all'interno 17 tipi di amminoacidi e abbiamo anche la centella asiatica in questo modo abbiamo una formula super performante ma anche super lenitiva e completa perché come sapete io non amo particolarmente i prodotti che sono molto aggressivi e questo nonostante abbia un 8% di AHA veramente è super delicato e ve lo straconsiglio. Ovviamente da utilizzare sempre e solo la sera massimo due tre volte a settimana mi raccomando adesso con l'arrivo dell'estate magari cerchiamo anche di diminuire soprattutto se ci esponiamo ai giorni seguenti. Vi mostro il prodottino appunto di Franklin AHA 8,05 questo qui secondo me è favoloso perché è una pelle normale mista o grassa anche perché comunque lavora sulle macchie per esempio quindi a me aiuta tantissimo e vi voglio far vedere la texture perché è un tonico molto 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 liquido adesso voglio vedere se riesco a farvi vedere quanto è liquido cioè aspettate non so se si percepisce guardate come cade sembra proprio acqua è veramente liquidissimo e semplicemente io lo metto così con le mani di solito a me i prodotti di questo tipo piace passarli con un dischetto di cotone ma vi devo dire che questo riesco a gestirlo bene anche con le mani perché vado semplicemente così a picchiettarlo e mi piace molto anche questo da una luminosità immediata e non ne metto neanche troppissimo perché comunque cioè non serve diciamo appondare troppo appunto così per il liquidino lo trovo molto molto indicato appunto per le pelli che hanno bisogno magari di non so faccio finta di mandare via le macchie rimaste post acne o delle macchie in generale per illuminare per le pelle un po più secche diciamo che questo è l'effetto che secondo me dovete ricercare se appunto volete comprare questo prodotto abbiamo di celimax eard leaf bh peeling pad io questi qui li avevo provati simili sempre di questo brand però con la centella asiatica ma hanno la stessa funzione diciamo ovvero sono dei pad imbevuti quindi come dei dischetti di cotone imbevuti vedete si presentano in questo modo e possono essere applicati sul viso in due modi o lì diciamo tamponiamo in questo modo sul viso come un tonico oppure li possiamo anche strisciare oppure li possiamo lasciare in posa qualche minuto stile maschera ne possiamo prendere magari un paio o comunque in base alle zone da trattare e veramente sono fenomenali abbiamo all'interno l'earth leaf che è un ingrediente veramente ottimo soprattutto per chi soffre di macchie e brufoletti e appunto questi hanno i bh come sfolianti quindi straconsigliate che una pelle mista grassa per le pelle secche normali consiglierei altro come il tonico di prima anche questi da utilizzare con parsimonia in questo periodo massimo due tre volte a settimana ma anche meno se riusciamo secondo me veramente favolosi in più sono super pratici perché appunto essendo già imbevuti di prodotto abbiamo già tutto pronto io non so voi ma solitamente io uso i tonici esfolianti sempre con dei dischetti perché riesco ad usare meglio il prodotto e a capire bene dove lo sto mettendo e in questo modo abbiamo tutto in uno già fatto allora vi mostro subito come si utilizzano questi pad allora si prende praticamente da qua dentro volendo potete usare anche una pinzetta se preferite ma io sinceramente mi trovo più comoda a fare con le dita e poi lo mettiamo sul viso e ha una consistenza non so se riuscite a vedere un po con dei pallini quindi diciamo che se lo mettete da questo lato i pallini non ci sono da questo sì e facendo diciamo così molto lentamente fate anche una micro ma micro 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 ma veramente micro esfoliazione anche meccaniche da un lato ma veramente pochissima ragazze perché giusto proprio il tempo di sentire un po questi pallini che sono un pochino più in fuori e in questo modo lo passate lo potete utilizzare in diversi modi potete sia fare come sto facendo io in questo momento oppure potete appunto lasciarlo in posa come una maschera vedete voi quanto tempo io mi baserei sul tempo che rimane bagnato il appunto pad e potete usarlo in questi due modi io personalmente lo utilizzo sempre diciamo strisciandolo come se fosse un classico appunto tonico con un dischetto e mi trovo molto molto bene vi devo dire che poi uno basta e avanza veramente perché da un sacco di prodotto di quantità però se volete fare tipo stile maschera ne prendete due tre insomma a seconda delle zone da trattare e lo lasciate lì per qualche minutino questo mi piace veramente tantissimo all'interno appunto abbiamo acido salicilico quindi mi raccomando consigliato solo per le pelli miste grasse poi abbiamo degli altri pad questi qua di frudia i green green grape pore peeling pad questa è veramente gigante come confezione e anche questi sono fatti allo stesso modo sono un po più grandi quindi nel caso c'è ancora più prodotto e potete usarli ancora meglio insomma e secondo me anche questi sono favolosi perché una pelle anche qui mista grassa perché all'interno abbiamo la betaina saliciato che appunto è un mix racido salicilico e betaina per fare un'esfoliazione super delicata ma comunque performante quindi anche questo lo consiglio che ha una pelle anche sensibile tutti i prodotti che vi ho mostrato vanno benissimo anche per le pelli più sensibili perché appunto hanno una formulazione ottimale nel completo comunque questi sono veramente super anche anti sebo cioè proprio immediatamente appena li mettete sentite proprio una restrizione se vogliamo dire dei pori in generale del sebo che viene più regolarizzato noto appunto questa cosa secondo me sono veramente fenomenali se avete queste esigenze e sono appunto super delicati come appena detto vi mostro adesso i frudia green grape pore peeling pad questi qui e questi sono molto grandi come appunto grandezza vi faccio il paragone con gli altri che appunto vi parlo nel video di grandezza cioè sono tipo quasi il doppio questo è quello di celimax e questi sono quelli di frudia cioè guardate sono veramente molto 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 grandi anche questi hanno lo stesso sistema ovvero che hanno una parte più liscia e una parte con questi puntini e anche questi sono utilizzabili allo stesso modo potete lasciarli in posa anche se questi essendo così grandi forse si fa un po' più fatica lasciarli in posa oppure li strisciate questi li trovo anche più delicati degli altri cioè gli altri sono super delicati ma questi secondo me ancora di più quindi le consiglierei soprattutto chi è all'inizio ma mi piace tantissimo anche questo veramente rilascia un glow alla pelle proprio molto molto bello e secondo me fa veramente bene il suo lavoro quindi io vi consiglio di passarlo in questo modo e poi dopo andate solo nelle zone cioè se per esempio voi avete una pelle facciamo finta che qui è grassa nelle guance e secca nella fronte potete evitare la fronte e andare solo dove vi serve diciamo che non è obbligatorio usare sempre tutti i prodotti nelle stesse cioè diciamo per tutto il viso ecco quindi io vi consiglio di fare così ed ecco qua il gioco è fatto fatemi sapere nei commenti quali prodotti preferite se li proverete e se ne avete anche voi da consigliare soprattutto per questo periodo magari estivo che dobbiamo andarci un po' più piano con gli esfolianti ovviamente ringrazio YesStyle per avermi fatto provare questi prodotti così mi sono fatta un'idea per consigliarvi appunto alcune chicche vi ricordo come sempre il mio codice premio Emily Strenda per fare acquisti su YesStyle e mi raccomando fatemi sapere cosa comprerete vi mando tanti bacioni e al prossimo video